Dobbiamo lavorare perché prevalga il buonsenso e perché il rispetto degli accordi sia la condizione per poter tornare alla piena ed effettiva normalità delle relazioni. In questo scenario, e chiudo, il ruolo dell'Italia è un ruolo sicuramente legato agli aspetti economici. Non voglio che i miei amici imprenditori italiani adesso abbiano dei dubbi su questo. Siamo naturalmente in prima linea per sostenere la presenza non soltanto in Russia, ma anche in Kazakistan, di tutto ciò che può essere fatto insieme. Noi siamo molto affezionati al nostro Made in Italy, ma ci piace l'idea del Made with Italy, dal punto di vista dell'agroalimentare, dell'ingegneria, dell'innovazione, della tecnologia. Tuttavia, mi permetto di dire che non è questo il punto centrale.